Fatima, una ragazza di 20 anni, è scomparsa da Napoli venerdì 26 gennaio e purtroppo non si hanno sue notizie da oltre due giorni. L'ultima volta è stata vista da telecamere in via Torquato Tasso nel quartiere di Chiaia. I familiari sono molto preoccupati e hanno diffuso un appello per ottenere informazioni utili al suo ritrovamento. La trasmissione televisiva chi l'ha visto sta seguendo il caso e ha pubblicato una scheda informativa sui canali social e sul sito del programma. Secondo quanto si è appreso le scorse ore Fatima indossava una giacca zebrata, dei pantaloni e scarpe nere al momento della scomparsa. Ai capelli castani un'altezza di un metro e 62. La giovane è uscita senza documenti né cellulare. Come detto c'è molta preoccupazione per la sua famiglia e l'indagine sulla sua scomparsa è tuttora in corso.